Adesso possiamo cominciare. Allora, buongiorno a tutte e a tutti e benvenute alla tavola ovale di oggi, 18 giugno, dedicata alla vicenda di Alvise V Sebastiano Mocenigo, che è una figura di spicco della vita politica e diplomatica della Repubblica di Venezia della seconda metà del Settecento, che Tommaso Scaramella, che è il nostro ospite, ha ricostruito osservando un aspetto della sua vita che assunse una rilevanza preponderante nella dimensione pubblica, incidendo pesantemente sulle sue sorti pubbliche e private, cioè la sua fama di sodomita. La eco enorme che questo ebbe sul piano mediatico influenzò irreversibilmente la sua carriera nei modi che Tommaso ci racconterà. Il formato webinar con cui oggi ci troviamo porta in modalità virtuale una consuetudine che è iniziata ormai diversi anni fa in ISIG, cioè di accogliere in modo informale le ricerche in corso, i cantieri aperti, le idee di ricerca, intorno a una tavola letteralmente ovale, da qui per chi non lo sapesse il nome di questo ciclo di seminari, coronando la discussione con un brindisi e uno spuntino che per le ragioni che tutti conosciamo oggi non possiamo offrirvi, ma auspichiamo di poter presto tornare a condividere anche la dimensione conviviale che la tavola ovale prevede, intorno alla quale non potrebbero però trovare posto le oltre 50 persone che virtualmente sono presenti oggi e questo è un risvolto positivo di questo nuovo corso. Io ringrazio molto Tommaso Scaramella per aver accolto l'invito a presentare il suo lavoro di ricerca che ha intrapreso nell'ambito del dottorato discusso presso l'Università di Bologna e poi ulteriormente sviluppato come postdoc all'Università di Verona, lavoro che presto diventerà un libro e che attendiamo con piacere di leggere. Ringrazio anche il collega Enrico Valseriati per il preziosissimo lavoro di regia e di supporto tecnico che rende possibile lo svolgimento della tavola ovale in questa forma virtuale. Vi segnalo che i primi 30 minuti circa del seminario verranno registrati e chiedo a tutte e a tutte di silenziare i microfoni e di spegnere le videocamere per non sovraccaricare la connessione e lascio quindi la parola a Tommaso Scaramella. Grazie. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie Fernanda Alfieri per l'invito e per la presentazione e tutto l'ISIG per l'ospitalità. Il protagonista appunto come diceva, anticipava Fernanda dell'incontro di oggi e come avrete visto forse già dal titolo un doge infame e qui posso fare partire la presentazione. Ecco qui, un doge infame, dico il doge infame è Alvise V Sebastiano Mocenigo, che qui vedete ritratto nella seconda metà del Settecento in una tela attribuita da Paolo De Lorenzi a Lorenzo Tiepolo. Quello che vorrei provare a fare oggi con voi è di guardare insieme, per lo meno per sommi capi, alla sua vita e alla sua vicenda personale e processuale, non tanto per un mero interesse biografico riguardante appunto la sua vita e quello che fu la sua esperienza più facile di altre vite appunto da ricostruire, ma comunque oggetto sempre di una ricostruzione inevitabilmente parziale, ma appunto guardare alla sua vita come spunto per parlare di questioni altre attinenti alla sessualità in antico regime, alla sua definizione e alla sua amministrazione in una città come Venezia e nel Settecento, spesso associata all'idea di città libertina. Mocenigo, eccolo qui, fu appunto un esponente di spicco tra le famiglie più antiche e più influenti del patriziato veneziano, nasce nel 1726 e seguì, possiamo dire, il cursus onorum tipico degli uomini politici veneziani del suo tempo, dal minore degli uffici pubblici, venne poi nominato ambasciatore a Madrid, dove incontrerà peraltro Giacomo Casanova, in seguito fu ambasciatore a Parigi, nel 73 viene nominato alla Corte di Vienna, però dovete rinunciare a questo incarico perché l'imperatrice Maria Teresa oppose un rifiuto aperto, manifesto, non lo voleva come ambasciatore, preoccupata per le diffamazioni che su di lui correvano all'interno delle corti europee. Il motivo del contendere era la sua vita libertina, sposato nel 59 con Chiara Zen, un'altra appunto esponente di una famiglia tra le più influenti veneziane, e Mocenigo, diremmo così, si liberò presto dei vincoli coniugali per poter vivere specialmente a Madrid e poi anche a Parigi, quindi nelle sue esperienze all'estero, con una massima libertà dei piaceri. I palazzi delle sue ambasciate e quindi le sue esperienze diplomatiche, pur minuziose e documentate nei dispacci che puntualmente inviava al Senato, sono però descritte dalle fonti anche come luoghi di incontro, potremmo dire progressisti, per usare questo termine, cioè dove venivano organizzate feste, si giocava ad azzardo, si promuovevano rappresentazioni musicali e commedie nuove, luoghi dunque dove veniva propriamente celebrata quella che potremmo definire una libertà sia di pensiero, ma anche dei costumi innanzitutto sessuali. Mocenigo in particolare era accusato di intrattenersi, di avere relazioni affettive e sessuali con giovani uomini che lo seguivano da Venezia o che incontrava in loco a Parigi e a Madrid, da lui promossi e sostenuti anche economicamente, fossero domestici o cavallerizi o ballerini, genti di teatro, quasi una corte di favoriti, come è definita in questo modo, anche ad esempio in certa memorialistica, penso alla vie privée di Federico II narrata da Voltaire, dove si ritrova questo portare in pubblico i vizi privati. Quindi diremo subito, svegliamo dunque il finale, che Sebastiano Mocenigo non fuma i doge. In seguito infatti al rifiuto della corte viennese, era stato istruito contro di lui un processo per libertinaggio e dalla magistratura venezionale degli inquisitori di Stato e accusato di sodomia, fu dunque condannato a sette anni di reclusione nel castello di Brescia, che sconterà interamente fino al 1780. Rimasto dunque lontano in esilio da Venezia, tornerà, resterà un po' indisparte dalla vita pubblica, però poi appunto viene riabilitato, potremmo dire, perché otterrà la carica di podestà e vicecapitano a Verona nell'87 e nell'89, alla morte del doge Renier, si candida a ultimo doge della Serenissima. Ma il suo passato, a distanza di anni dalla condanna e dallo sconto della sua pena, fu appunto, ritorna sulla scena pubblica, in particolare l'infamia delle accuse e della condanna per sodomia, lo resero bersaglio di satire e di diffamazioni che ne prendevano di mira l'orientamento sessuale, potremmo dire per utilizzare un termine forse improprio rispetto al contesto, ma appunto appartenente più alla storia recente. Attirata dunque di nuovo a sé l'attenzione, fu oggetto di un secondo processo per corruzione, accusato di corrompere appunto i nobili decaduti in cambio della nomina a doge, e quindi viene obbligato di nuovo dagli inquisitori di Stato a ritirarsi dalla corsa ducale. Nell'89 viene nominato infine procuratore di San Marco, quasi a ricompensa della mancata elezione ducale, però appunto non riuscirà mai a prendere parte a questa carica, morirà nel 95 all'età di 69 anni. Passo dunque, dopo questa breve introduzione sulla sua vita, al secondo quadro che vi propongo, quindi il ridotto di Francesco Guardi, per dire qualcosa sul contesto veneziano. Venezia nel Settecento è al centro di una narrazione nuova, quella che è stata definita una narrazione nuova, che guarda la vita reale, una narrazione che è ben presente negli scritti dell'epoca, ma che è diventata poi nella storiografia specie ottocentesca quasi una leggenda nera in senso antiveneziano. Cioè quello della libertà dell'ultima Venezia, del carnevale, delle maschere, del luogo comune, di una città dedita all'esaltazione dei piaceri fisici, messa in relazione anche alla sua decadenza conclusiva. È una narrazione questa che troviamo appunto nei quadri della vita reale di Francesco Guardi o di Pietro Longhi, questo appunto il ridotto celebre è il ridotto di San Moisè, la casa da gioco pubblica gestita dal governo veneziano a Palazzo Dandolo, luogo di incontro e di socialità tra persone appartenenti a ceti sociali differenti, dove si poteva praticare giochi d'azzardo, ma si si poteva anche incontrare e incontrarne nello specifico prostitute e prostituti, praticare insomma una libertà dei piaceri sessuali. È una narrazione che si legge anche nelle commedie di Carlo Voldoni, ma ben più conosciuta forse nella storia della mia vita di Giacomo Casanova, forse l'esponente più celebre di questa libertà dei piaceri. È anche un motivo presente nei diari dei viaggiatori a Venezia, attirati anche da questa stessa fama libertina, ad esempio con il carnevale che sappiamo durava sei mesi all'anno. All'interno di questa narrazione, dunque, è certamente autocelebrativa e promossa dalla Repubblica, ma anche oggetto di un utilizzo polemico in senso anti-veneziano. Penso ad esempio alla storia del governo veneziano di Amelò della Iusei di fine 600, dove appunto compare questo motivo della libertà libertina di Venezia associato per contrapposizione a invece la libertà mitologica delle origini, cioè la libertà delle origini, la libertà repubblicana, per la quale era famosa Venezia, diviene nell'ultimo periodo la libertà fisica dei piaceri sessuali e quindi motivo di decadenza. Montesquieu appunto dice, no, di ritorno da Venezia nei suoi diari, una libertà che la gente per bene non vuole avere, la libertà di vivere nell'oscurità. Secondo questa Venezia, scusate, secondo questa narrazione, Venezia allora si fa così luogo di una libertà che diventa libertinaggio. Simbolo di decadenza, causa della caduta della Repubblica, leggenda nera appunto che attribuisce a questa frivolezza ultima settecentesca la sua caduta. In questa narrazione, ma non soltanto qui, è possibile scorgere dunque un legame che lega a corruzione sessuale e corruzione politica. Di fronte a questo caso Mocenigo e a questo contesto che vi ho brevemente illustrato, cioè la libertà dei piaceri nel settecento veneziano, e di fronte a questo tema, cioè quello della norma sessuale e delle sue trasgressioni, come nel caso appunto dell'accusa sodomitica, mi sono posto almeno quattro questioni. e anche con l'intento di superare da un lato una narrazione forse a volte compiaciuta del libertinaggio veneziano o marginalizzata dalla storiografia intesa non come alla pari della vera storia importante. E dall'altro lato mi pare che porre queste quattro questioni sia utile anche per problematizzare una lettura in senso evolutivo della sessualità, cioè una necessità di prendere le distanze dal proiettare all'indietro inevitabilmente le nostre idee dell'oggi alla ricerca magari di una soggettività, alla ricerca di come è andata formandosi nel tempo, una certa soggettività, quando invece sappiamo che l'importanza del contesto è decisiva in qualsiasi argomento storico, non soltanto per questo. Le quattro questioni che mi pongo e che vi propongo e che qui oggi metto a confronto con voi sono allora come era definita la sessualità in antico regime, come era amministrato il peccato reato di sodomia e nello specifico all'interno della magistratura che dai Quattrocento si occupava della repressione della sodomia a Venezia, cioè il Consiglio di Dieci, quali erano i meccanismi dell'infamia associata all'accusa di sodomia e quali erano infine le possibilità di uno spazio di libertà dalle norme, se così vogliamo definirlo, uno spazio certo ancora individuale, anzi spesso dissimulato, che viaggiava sulla clandestinità e non ancora oggetto di rivendicazione pubblica. Credo che queste quattro questioni siano in realtà collegate. Parlare di morale sessuale in antico regime significa parlare di sensualità, come sappiamo, cioè la sessualità per come la intendiamo oggi, quale complesso di fenomeni psicologici e comportamentali storicamente determinati dall'ambiente nel quale si esprimono secondo norme che mutano nel tempo e nello spazio e che quindi producono un discorso diverso di volta in volta a seconda del contesto. Questa idea è l'esito di un processo di pluralizzazione dei discorsi sulla sessualità, cioè un processo che gli storici e le storiche hanno individuato alla fine dell'Ottocento quando è stato possibile non più pensare alla sessualità come un territorio esclusivo della morale considerata universale, ma invece come oggetto di ricerca via via di un interesse e una partecipazione da parte di più discipline. Prima, nella cultura dominante, invece, su questo punto si sono confrontati gli storici e le storiche della sessualità, nei trattati morali e giuridici dell'antico regime, la sessualità invece è vista per lo più come attività dei sensi, la sensualità, cioè come la manifestazione più visibile, comportamentale, dell'agire sessuale, un agire al pari degli altri atti, delle altre azioni umane, posto all'interno di un sistema di passioni che guardava dunque alle cause prime di quell'agire, alla fisiologia che sottostava al lato sessuale, alle passioni smosse appunto dall'attività sensibile, dai sensi. Si trattava dunque di un'attività che andava educata, regolata, controllata, perché per mantenere l'ordine sociale che si credeva minacciato dai comportamenti trasgressivi sopra i quali pendeva la condanna divina e quindi la necessità di evitare sciagure economiche, naturali, guerre, epidemie. Ma all'interno di questo appunto contesto, la sodomia tra tutti gli atti trasgressivi, definiti trasgressivi, era quella che più direttamente aveva tirato su di sé l'ira divina, con la condanna che si estendeva non soltanto sul singolo, ma sull'intera collettività, il cui ricordo era vivo nella distruzione delle città di Sodoma e Gomorra. E come avveniva questo controllo, questa educazione e questa repressione? Attraverso appunto le autorità di antico regime, lo Stato e la Chiesa, in un dualismo etico tra condanna morale e condanna giuridica. Quello allora che salta agli occhi secondo me è che appunto non dobbiamo dimenticare che la sessualità in antico regime e la sessualità appunto in generale è sì determinata dal contesto storico, ma è appunto il suo significato appartiene a un vocabolario, è partecipe a un vocabolario etico che guarda l'agire umano, l'atto sessuale, valutato rispetto alle sue molteplici manifestazioni ritenute conformi o non conformi, secondo un ideale modello comportamentale, una data morale. L'ideale di temperanza, di matrice stoica, cioè l'idea per la quale la sessualità è un impulso da regolare, all'interno di un discorso sull'equilibrio delle passioni, sappiamo che ha trovato nella cristianità, in particolare in Tommaso d'Aquino, la sua sistemazione dottrinale. Il discorso morale sulla sessualità riconduce dunque l'agire sessuale a un fine primo, il fine procreativo, da compiensi entro il matrimonio coniugale, monogamico ed eterosessuale. Tutti gli altri atti che vi si scostavano erano ritenuti delle trasgressioni, degli eccessi, in quanto il piacere sessuale non era indirizzato al suo fine, al fine procreativo, ma era, diremmo così, fine a se stesso. È sregolato dunque perché appunto la ragione non vi interveniva come invece avrebbe dovuto nel discernere a quali appetiti dare seguito. Tra tutti gli eccessi sicuramente, tra tutte le trasgressioni, la sodomia era quella che più pericolosamente avrebbe potuto trasformarsi in un'abitudine viziosa, definita viziosa, vizio appunto alla cui repressione partecipavano in antico regime una pluralità di tribunali secondo il pluralismo tipico della giustizia di antico regime, benché sull'atto carnale aspettasse la competenza al foro secolare, di fatto negli antichi stati italiani la sodomia fu giudicata non tanto come atto carnale ma anche come giustificazione, possibilità di una giustificazione etterodossa al piacere trasgressivo, quindi problematico sul piano morale e sul piano della fede, all'interno di una giustizia che non era esclusiva ma accumulativa, un sistema di tribunali tra loro non tuttavia in competizione. Ovviamente mi riferisco al foro interno della coscienza, il foro esterno dei tribunali penali secolari, la giustizia del principe da un lato e dall'altro appunto la giustizia del vescovo e i fori inquisitoriali. Se dunque reso necessario nella mia ricerca, o perlomeno così ho creduto di fare, contestualizzare il caso di Mocenigo e qui veniamo al secondo punto delle quattro questioni che mi ero posto, quindi il discorso sulla sodomia a Venezia, contestualizzare dicevo il caso di Mocenigo, la sua accusa, l'accusa di sodomia all'interno della gestione penale della sodomia a Venezia nell'età moderna e nello specifico nel Settecento. Anche per confrontare questo mi ponevo cioè eventuali variazioni della giustizia veneziana, una variazione di attenzione e anche quindi una maggiore o minore pericolosità morale e sociale associata alle trasgressioni all'interno di un contesto come Venezia appunto dove c'è, dove che era famosa per il mito della libertà dei piaceri. Quindi si è trattato di consultare e scorrere i registri e le filze criminali del Consiglio dei Dieci alla ricerca dei processi celebrati per sodomia nel Settecento contestualizzando quindi il caso di Mocenigo ma ricavando anche una statistica che per la Venezia nell'età moderna si fermava al 1680 e che quindi io ho proseguito per questo tratto finale dal 1680 alla caduta della Repubblica nel 1797 e che prima appunto aveva visto lo studio da parte degli studiosi e delle studiose dei processi per sodomia celebrati prima da magistrature minori e poi dal 1418 quando prende la competenza dal Consiglio dei Dieci quindi possiamo dire che dal 1418 in avanti tranne alcune grosse lacune che variano tra il 500 la seconda metà del 500 e il 600 possiamo ora avere uno sguardo di lunga durata riguardo all'attenzione e all'amministrazione della sodomia a Venezia nell'età moderna si vede brevemente come dopo il culmine repressivo registrato a metà 500 con 181 casi è poi registrata invece un graduale decremento dell'attenzione e della presenza di processi contro la sodomia a Venezia attenzione e decremento che sono validati e anche confermati nell'ultima parte nel 700 veneziano dove appunto se 81 erano i casi celebrati in media all'anno nella seconda metà del 600 risultano 78 nella prima metà del 700 e 50 nell'ultima metà del 700 quindi a dispetto di una diciamo così una maggiore attenzione rispetto ai casi e qui però non avrò tempo per commentare le singole statistiche casomai poi ci ritorniamo dopo dicevo a dispetto dei casi di sodomia paritari e consensuali risultano in maniera maggiore preponderanti invece gli abusi quindi atti classificati anche questi all'interno della stessa categoria di sodomia però appunto dove la variabile violenta che non era il centro dell'inquisizione ma era soltanto un aggravante appunto fa pensare a una diminuzione dell'attenzione rispetto ai casi di sodomia nel complesso e un'attenzione invece rivolta soltanto ai casi dove rimaneva l'aggravante della violenza passerei dunque alla terza questione quindi all'infamia associata alla sodomia intesa qui come un'abitudine vizio nefando era chiamata la sodomia quindi da non dire che diventava problematica invece proprio nel momento in cui veniva resa di dominio pubblico come era nel caso di Sebastiano Mocenigo diventava dunque problematica in quanto abitudine che minava l'onore di chi la praticava questo perché nelle società di antico regime era l'onore il bene giuridicamente socialmente tutelato anziché quello della libertà sessuale sappiamo che le società di antico regime sono società che si riconoscono per ceti corpi e non tanto per individui dunque l'inclusione o meno all'interno di questi gruppi sociali era rappresentata dal fattore economico che insieme alla buona reputazione garantiva a ciascuno e a ciascuno appunto l'accesso e il mantenimento all'interno del proprio gruppo sociale all'interno della gerarchia sociale quindi anche il riconoscimento pubblico di sé all'interno della società l'infamia delle condotte sessuali ritenute non conformi minacciava di macchiare proprio l'onore personale e familiare privando al contempo chi fosse stato accusato anche della chiave di accesso dunque allo spazio comunitario vengo allora all'ultima questione la quarta questione per dire come mi pare di poter dire che è soprattutto e innanzitutto in un contesto polemico per lo meno per le fonti che abbiamo a disposizione cioè nello specifico fonti criminali che si può produrre pubblicamente una possibilità di uno spazio di libertà dalla norma spazio stigmatizzato e quindi identificato dalla norma stessa in quanto libertino cioè nel momento della sua condanna della sua stigmatizzazione pubblica si produce anche cioè è visibile fisicamente quello spazio che tuttavia è già presente nella società è già presente all'interno di quella dialettica etico morale che è propria di ciascuna di ciascuna società di ciascun contesto di ciascuna collettività è uno spazio dunque che viene reso pubblico come nel caso di Mocenigo proprio con la sua stato di messa di accusa altrimenti spazio è relegato al privato alla clandestinità e alla dissimulazione l'accusa di sodomia come vedremo fra un attimo riguardo al caso di Mocenigo rivela dunque che al di là dell'atto carnale al di là di una libertà soltanto fisica stessa in realtà il pericolo reale sotteso a questa liberazione operata individualmente e clandestinamente finché non veniva resa pubblica stigmatizzata come libertina cioè in questa libertà c'è una ricerca di un piacere e di giustificazioni eterodosse a quel piacere più o meno sviluppate e più o meno coscienti giustificate sul piano filosofico dove appunto questa ricerca e queste giustificazioni eterodosse rappresentavano un attacco in realtà alla morale sessuale ma dunque al fondamento la stessa dell'antico regime alla religione alla morale stessa e all'ordinamento statale cioè la possibilità di uno spazio o altro dalla norma che qui sembra prodursi e quindi veniamo o torniamo al caso di Mocenigo e alle satire e alle diffamazioni delle quali fu oggetto ho scelto per questione di tempo di concentrarmi soltanto su quest'ultima parte perché fosse quella più interessante e più godibile cioè dove lui si candida ultimo d'oggi della serenissima come di consueto emergono un gran numero di satire e diffamazioni che qui però proprio colgono sul punto il funzionamento dell'uso polemico dell'accusa libertina entro un contesto certo di lotta politica tra fazioni ma dove questa libertà questo spazio questa possibilità di essere altro esce in una qualche misura ho selezionato due composizioni in particolari questa e poi quest'altra molto più complessa e articolata la prima diciamo appartiene anche questa alla tradizione di satire e di pasquinate che proprio riguardo anche all'argomento della sodomia l'accusa di sodomia ha avuto appunto una storia di presa di mira delle trasgressioni sessuali questa era affissa era pronta per essere affissa probabilmente in qualche colonna in qualche posto della città ma ritrovata da uno degli informatori segreti degli inquisitori di stato una delle spie che la ritrova nell'89 nel febbraio dell'89 in una delle botteghe di uno stampatore Silvestro Gatti ed è appunto una satira che riassume un po' così il quadro il quadro politico di quel periodo e nello specifico la vita libertina di Mocenigo si domanda se appunto sì 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 diciamo così viene preso in di mira no la sua la sua personale funzione e che appunto dice no la nostra sacrosante inquisition al fogo la condanna il buzzaron il sodomita no insepolte le ceneri volendo e qua invece si domanda no giocando sull'equivoco un giorno tremendo saliva al trono un uomo buzzaron e buzzerà cioè appunto sodomitattivo diremmo così e allo stesso tempo sodomizzato eppure leggi governi inquisizioni inquisizione tacciano e arriviamo allo sbeffeggiamento massimo di questa di questa degradazione e anche al legame tra corruzione sessuale morale e corruzione politica che sbeffeggiamento massimo che si produce nel nome che vedete scritto così Sebastiano con un trattino che divide il nome in due sarà fatto doge Bardas e ragazzetti fate festa che il culo si incorona ecco dunque il meccanismo sul quale ruota l'infamia sodomitica il mettere in pubblico un'inadeguatezza morale che è anche un'inadeguatezza costitutiva nel suo insieme politica ma sono argomenti che poi emergono soprattutto all'interno di questa ultima e ben più articolata satira che vi propongo anonima anche questa si presenta in un'ottava di dodici stanze è composta di endecasillabi rimati dove emerge una conoscenza puntuale da parte dei contemporanei delle vicende che interessavano Mocenigo anche al di fuori della segretezza che la giustizia pretendeva con il rito segreto del consiglio di dieci degli inquisitori di stato su queste materie con la necessità di esiliare per così dire tra virgolette Mocenigo al di fuori della società veneziana per fargli scontare la pena ma in realtà è motivo questo l'infamia conosciuta da tutti non la leggeremo tutta però appunto vi si ritrova una conoscenza puntuale da parte dei contemporanei delle vicende qui ripercorse all'apertura diciamo così della successione educale alla morte del Doge Renier dice no questo quel che poi più di tutto fa stupire è Mocenigo Cavaliere Bastiano che si presenta alla competizione educale fa stupire perché per quei vizi che fanno inorridire ogni uomo di senno nonché buon cristiano io parlo riservato ma sono certo che inteso sono come io parlassi aperto anche qui la doppia dimensione no privato e pubblico anche se io utilizzo privato e pubblico ma questo poi magari potremmo metterlo oggetto di discussione ovviamente sono categorie anche queste da definire e ricostruire secondo il contesto storico ecco qui allora la conoscenza puntuale un uomo che nelle sue illustri ambasciate illustri solo perché spende tesori incauto trascurò l'altruipedate e si mise a coltivare gli amori un uomo Mocenigo le cui colpe furono presentate in collegio in senato dal ministro Cesare una volta che fu eletto a Vienna ambasciatore e che la saggia Teresa non volle avere nel nuovo ambasciatore un uomo sfrenato anche qui ritorna il tema morale della necessità di un equilibrio tra le passioni e della sua elezione tanto si dolse la saggia Teresa che che gli venne a ritirarsi consigliato quindi a Brescia in castello per sette anni pagò la pena di questa inutile valdanza fu liberato tornò agli incarichi politici dice questa satira però della volpe i fraudolenti inganni non cangian col valeriare del sito o distanza cioè partì ma tornò a Venezia partì per la reclusione per scontare la pena ma tornò a Venezia come non mutato come partisse indegno e tal si conservò dice la satira poi ancora il discorso pubblico e privato non vuoi internarmi dove non richiede il privato riguardo e l'argomento solo dirò che menzognera fede che doppio cuore nel cavaliere pavento e che il trono ducale soggetti richiede di un lucido imparzial discernimento che fossi probi e che non li guidasse né interesse né donne né bardasse anche qui una doppiezza costitutiva che non è soltanto un'alterità infamante individuata nella sodomia ma è una doppiezza proprio costitutiva politica no e che si conclude appunto con l'esaltazione a che non sia fatto un altro doge porco che non si dia della principale figura che la repubblica sia 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 il mai costume quindi che il mai costume non sia quello che esce all'estero della repubblica di venezia e anche qui appunto prende di mira infine il discorso che cerca un doge che fingendo di aver paura cerca compagno nelle notturne piume un doge che passione infame impura stabilisce per suo unico nome che in consiglio in collegio in senato voria il bardassa o il mezzano alato quindi anche qui un ripetersi di una maschilità inadeguata o incompleta o parziale no concludo dunque questo intervento portandovi da ultimo questo episodio legato a Sebastiano Mocenigo riportato del relato da un testimone al primo processo invece per libertinaggio perché mi pare interessante perché illustra la presenza di questioni altre più diremmo così soggettive che difficilmente altrimenti avrebbero lasciato una loro traccia nelle fonti criminali lo cito in conclusione proprio per mostrare che anche la sessualità e nello specifico l'omosessualità ha una storia che non è soltanto necessariamente quella della sua repressione questo testimone Zuccato sentito dagli inquisitori di Stato in cerca di conferme sulla vita libertina di Mocenigo appena nominato alla corte di Vienna dice sì lo conosco questo Mocenigo perché ricordo che 30 anni prima quindi prima ancora che Mocenigo si sposasse con Chiara Zain prima che intraprendesse la carriera politica veneziana ricordo questo incontro un suo un suo domestico venne in casa mia mi diede un bigliettino in questo bigliettino c'era un appuntamento mi dice troviamoci al caffè di Santa Maria Formosa il tal giorno questo Zuccato che allora aveva 25 anni e Mocenigo ne aveva 29 ci dà l'occasione ricordando questa questa sua questo suo appunto testimonianza seppur derelato di guardare alla vita di Mocenigo sul lungo periodo no che in fondo è un privilegio in mancanza di altre fonti e dice portato Nicolà trovai Sua Eccellenza dal che fu preso per mano e condotto dietro alla chiesa cominciò a farmi molte promesse d'amicizia alle quali io ho corrisposto con espressioni di servitù e di riconoscenza ma insistendo egli nelle dichiarazioni di amicizia ed io di servitù mi disse che non intendevo il suo parlare e che bramava di me per l'amore che suoi sentirsi per le donne al che rispondendo io con espressioni forti e di doglianza mi prese per mano pregandomi che nulla dicessi ai miei di casa o ad altri di questo avvenimento ancora qui dunque si vede il silenzio e la dimensione del privato che non deve diventare pubblico Sebastiano Mocenigo non aveva forse le parole dal punto di vista della cultura dominante per far capire quell'amore che suoi sentirsi per le donne e che lui invece aveva provato per persone del suo stesso sesso o forse quelle parole c'erano ma andavano pesate e disciplinate ridotte al silenzio e negate anche perché così di fronte all'infamia dell'accusa sodomitica prodotta da una simile libertà libertina da questo simile spazio di libertà che non doveva diventare pubblico anche all'interno di una città come Venezia associata nella sua ultima fase al luogo comune del libertinaggio e della libertà dei piaceri così probabilmente era conveniente fare e qui avrei terminato la presentazione grazie grazie Tommaso per averci fatto osservare la vicenda di Mocenigo nei suoi risvolti politici pubblici privati di immaginario di comunicazione penso in particolare ai penultimi due documenti che ci hai presentato è la storia di un individuo di una città di una comunità intesa come specie umana che nell'etica di antico regime ha la precedenza sul desiderio individuali almeno stando alle tracce documentari di cui disponiamo è una storia di soggettività e come espressa o nel suo tentativo di espressione quanto meno e penso all'ultimo documento che ci hai mostrato noi abbiamo circa un quarto d'ora 20 minuti per le domande che chiedo a chi desidera intervenire con domande commenti osservazione richieste di approfondimento di scrivere nella chat formalmente il nostro seminario si chiude alle 12 ma per chi vuole restare a discutere volentieri possiamo anche trattenerci oltre allora c'è subito una domanda di Massimo Rosspoker grazie Tommaso solo una curiosità a proposito dei due test inversi che ci hanno mostrato che ci ha mostrato alla fine immaginavo che in particolare questi due testi suscitassero la curiosità di Massimo che erano gli autori o i lettori mi pare tu abbia parlato della bottega di uno stampatore come uno dei luoghi della circolazione sì in realtà appunto queste satire diffamazioni sono conservate appunto all'interno di una busta tra gli atti processuali dell'ultimo processo e sono conservate nella forma di dispacci che le spie degli inquisitori di Stato restituivano appunto agli inquisitori di Stato ma sotto richiesta stessa degli inquisitori di Stato interessati a indagare di più sulla corruzione e queste satire sono anonime sono trascritte all'interno di questa corrispondenza dove appunto non emerge non emergono altri particolari rispetto ai lettori o comunque alla circolazione che tuttavia si può ricostruire appunto facendo un lavoro o comunque con gli studi che sono fatti sulla circolazione di questi testi all'interno della società veneziana e nello specifico la prima satira era una satira dice l'informatore pronta per essere stampata quindi probabilmente appresso questa bottega di questo stampatore Silvestro Gatti quindi probabilmente si trattavano di ipotizzo di fogli volanti come anche nel caso successivo della seconda satira anonima fogli volanti destinati ad essere condivisi di mano in mano soprattutto nella seconda satira anche per ipotizzo per la forma stessa di quella satira dove appunto era forma in ottave una canzone in ottave dove è una forma tipica per essere declamata in pubblico quindi questo fino ad ora sono riuscito a ricostruire ma probabilmente si ringrazio per questo spunto nel senso sarebbe interessante anche capire come poi materialmente si diffondessero queste satire queste diffamazioni che tuttavia stando a quegli atti processuali altre informazioni non sono disponibili ecco anche Enrico Valseriate ringrazia per l'intervento e chiede che cosa sappiamo e mi associo a questa domanda che avrei voluto farti anch'io cosa sappiamo di quel picco di attività repressiva del consiglio dei dieci tra il quindicesimo e il sedicesimo secolo in generale se posso aggiungere se puoi darci qualche informazione in più di inquadramento di questi numeri per quello che possiamo sapere sì questo picco di metà cinquecento è studiato è studiato prima da Guido Ruggero per il rinascimento e per questo cinquecento e poi da Gabriele Martini per il seicento oltre che a Patricia Labalm e a Scarabello e questo picco diciamo è stato messo in relazione in particolare da Ruggero al 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 disciplinamento tridentino post tridentino a una ehm necessità di eh così no di 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 una maggiore eh attenzione da parte della delle autorità riguardo alla alle trasgressioni ehm e nello specifico alle trasgressioni sessuali ehm è eh eh tuttavia difficile eh dare una mh interpretazione anche se confronti con altre città di antico regime eh negli antichi stati italiani sono possibili e c'è questa tendenza generale eh riscontrata no? eh cioè un generale ideale decremento a partire da quel periodo fino a poi alla fine dell'antico regime eh riguardo a queste questioni e riguardo poi invece alle singole specificità e alle eh diciamo così ai risultati no? Della ricerca sul settecento e sul sui processi e quindi sulla categoria di sodomia eh posso dire qualcosa in più brevemente ossia che eh appunto come sappiamo all'interno della categoria sodomitica si eh in antico regime si convogliavano più eh eh definizioni di atti differenti quindi non soltanto quelli delle persone dello stesso sesso e non soltanto eh quelli consumati diremmo così a livello eh paritario e consensuale ma anche appunto episodi di violenza soprattutto sono risultati eh preponderanti maggiori gli abusi sessuali eh su minori eh dello stesso sesso per dar conto della pluralità di così di atti no? censiti sotto l'artichetta eh sodomitica eh si pensi che eh eh sotto la categoria sodomitica erano eh puniti anche eh gli atti con animali la bestialità eh che per eh a Venezia per il seicento non non erano non erano risultati eh non c'erano risultati eh processi per quello invece nel settecento ne ho trovati sei e questo però dipende da materialmente dalle dalla disponibilità delle fonti perché questo eh singola eh categoria è più presente no? è stata messa in relazione a un contesto eh di eh rurale e quindi per il settecento disponiamo a Venezia anche dei singoli eh processi celebrati nella terraferma e rinviati poi al consiglio di dieci per la sentenza perché appunto il consiglio di dieci per tutta l'epoca moderna detiene la competenza sulla sodomia e anche su quei casi eh rinvenuti dai rettori nella terraferma quindi eh i rettori dove erano tenuti a dare notizia del singolo caso eh il consiglio di dieci deliberava se eh proseguire o meno il caso delegava ai rettori alla corte pretoria locale e quindi non al maleficio il il caso col potere appunto corrito del consiglio di dieci però poi il processo tornava indietro e quindi per la metà del settecento questi processi sono conservati eh direttamente in archivio di stato a Venezia e quindi per questo è stata possibile eh ampliare diciamo così la ricerca e i processi invece di sodomia di emacus di omosessuale tra persone dello stesso sesso paritari e consenzienti sono calanti diciamo così nel settecento e questo l'ho messo in relazione al fatto che probabilmente ma è un'ipotesi probabilmente eh una minore attenzione e una minore preoccupazione da parte della società settecentesca verso queste trasgressioni ritenute appunto eh meno probabilmente trasgressive cioè perde in un certo quale modo la così la 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 proprietà la valenza eh trasgressiva sul piano morale e sociale e eh anche forse in riferimento a quella libertà no dei piaceri eh settecentesca e quindi rimangono nelle fonti nei nei registri criminali soltanto quei casi di sodomia violenta dove c'era effettivamente una vittima che denunciava eh chi le aveva fatto un torto quindi eh ecco anche questo è un altro aspetto da considerare no sono eh questo che noi ricerchiamo cioè appunto questioni della della sessualità eh sono questioni sì che erano attenzionate da parte della magistratura eh però eh di difficile eh emersione se vogliamo se non c'era come invece era nelle cinquecento quindi in età eh rinascimentale se non c'era una specifica volontà da parte della magistratura del governo di eh intervenire e di controllare eh prima che non dopo no eh la diffusione e quindi eh disciplinare educare e eh prevenire ecco eh questi definiamo i comportamenti secondo quel linguaggio quindi eh probabilmente anche questo è da mettere in relazione al fatto che nel cinquecento eh c'è questa eh maggiore eh disponibilità di processi eh rispetto alla alle epoche successive Vincenzo Lavegna ringrazia a sua volta e chiede se Venezia fosse metta di turismo sessuale vista la sua eh precoce ridefinizione come città non più imperiale ma quasi cartolina e da grand tour eh e se vi siano tracce di un turismo sessuale omosessuale e se si sia fatta eh la storia di questo eventuale fenomeno sì eh questa è una domanda che coglie nel segno nel senso che eh sarebbe molto interessante eh guardare a questo eh ci sono delle ipotesi per quanto io ho trovato insomma che riconducono questo anche questa attrattività veneziana settecentesca eh a un contesto eh che è quello poi di Casanova narrato nella storia della mia vita fatto di eh ridotti casini quindi queste queste seconde case di proprietà eh aristocratica eh patrizie dove appunto era diventano simbolo no della celebrazione di una libertà dei piaceri non necessariamente eh omosessuale ma libertà in quanto tale ecco fine a se stessa questo è quello ad esempio la lettura che da che è possibile dare da 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 Casanova dalle memorie no che lui ricostruisce ma appunto è una eh un tema che ricorre anche nei diari di viaggio eh non nello specifico riguardo appunto alla sodomia ma comunque una libertà sessuale dei piaceri eh met venezia diventa meta di eh appunto di famosa no per la libertà e anche per una ricerca eh di una libertà dove appunto si può eh vivere eh apertamente poi ovviamente queste sono descrizioni che fanno eh questi questi viaggiatori impegnati nel Grand Tour ripetendo anche spesso eh questi motivi quindi sono motivi in realtà eh credo costruiti no anche questo sarebbe interessante capire perché eh ci sono motivi che ritornano eh di frequente all'interno di queste narrazioni eh dove appunto la eh libertà soprattutto nel settecento o comunque a partire dalla fine del seicento è quella della libertà sessuale eh Grazie.